La ricetta per una spesa perfetta? Acqua e sapone, trovo prodotti di qualità a prezzi imbattibili Qui trovi i pannolini Pampers Baby Dry e Mutandino con un'offerta eccezionale La confezione Maxi da 4 pacchie a 23,90€ I pannolini perfetti per il tuo bambino perché lo tengono asciutto e libero di muoversi E per la pelle delicata del tuo bambino utilizza le salviettine Sensitive Progressi Trovi la confezione da 126 pezzi a 4,49€ Le creme Fluide Nivea da 500ml e la Soft da 300ml sono a 3,99€ ciascuna Pelle profumata e idratata Prova anche i prodotti Nivea Corpo Luminos L'olio siero è a 11,90€ mentre la crema a 8,90€ E solo d'acqua e sapone con due prodotti Corpo Nivea scelta Tra crema e olio siero in omaggio una corda per saltare Sabato 11 maggio vieni a fare la spesa d'acqua e sapone Avrai in omaggio la borsa mare Guilla Roche disponibile in 4 colori Viva la mamma! Acqua e sapone, oltre la convenienza!